buonasera voglio buonasera buonasera allora prime due partite degli ottavi di champions e non due partite così e allora cominciamo dalla più spettacolare borussia dortmund batte paris saint germain 2 a 1 doppietta di questo haaland e al decimo gol classe 2000 al decimo gol in questa edizione della champions league allora cosa penso di questo giocatore naturalmente è un ottimo prospetto un prospetto che può ancora crescere io non so come dire i calci piazzati vabbè è rigorista non so come tira i calci piazzati sono curioso di vederlo vi spiego perché a me come movenze e con quel sinistro a me ricorda e molto julio cruz ex giocatore dell'inter no mi sa che cruz era destro mi sa o era bidestro non lo so comunque a me ricorda molto come movenze julio cruz solo che julio cruz magari un filino più compassato ma la porta la vedeva la grande comunque questo ragazzo fa due gol la difesa del paris saint germain è da censura paris saint germain che l'aveva pareggiata con neymar tuckel che non ha schierato né cavani nei cardi per proprio per non dare punto di riferimento alla difesa del borussia dortmund che tutto mi sembra qualche insuperabile questa difesa qua comunque qualificazione ancora aperta naturalmente il paris entrambe le difese di queste due squadre lasciano molto a desiderare pur avendo due giocatori molto forti molto esperti più che molto forti perché gli anni passano anche per loro sto parlando di tiago silva per il pari saint germain e di ummels per il borussia dortmund entrambi hanno caratteristiche molto simili giocano la palla anche se sono abbastanza in là con gli anni comunque comunque al ritorno la partita è ancora tutta da giocare diciamo che siamo ancora al 50 per cento come probabilità io penso che sarà una partita dove entrambi andranno in gol e naturalmente la differenza la faranno gli attacchi rispettivi attacchi certo io penso che al ritorno io penso che al ritorno tuckel otterrà per schierare un attacco quattro stelle c'è di maria mbappé neymar è uno fra i cardio cavani io penso più i cardi che cavani e comunque sarà una partita tutta da gustare tutta da vedere l'altra partita atletico madrid batte liverpool 1 a 0 sto sentendo molti molti colti di sorpresa da questo successo dell'atletico io invece no invece no signori l'atletico madrid nella fase eliminazione diretta è una squadra molto 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 difficile da superare in tutti questi anni è stata superata sempre dalla squadra che aveva cristiano ronaldo in campo che sia la juve o che sia il real madrid ma attenzione guardate il curriculum del dell'atletico madrid nella fase eliminazione diretta che sia champions o che sia europa league dal dal 2014 ad oggi cioè in pratica da quando l'allena simeone allora dal 2014 arriva in finale di champions e perde con real madrid nel 2015 arriva insieme nei quarti di champions e viene eliminata ancora dal real madrid di cristiano ronaldo nel 2016 di nuovo in finale di champions sempre battuto dal real madrid di cristiano ronaldo nel 2017 in semifinale di champions sempre eliminato dal real di cristiano ronaldo nel 2018 viene eliminata i gironi ma vince l'europa league nel 2019 l'anno scorso sappiamo tutti è stata eliminata la juventus di cristiano ronaldo quindi è una squadra che molti hanno dato per spacciata quando hanno visto l'accoppiamento con liverpool io vi dirò io vi dico di più secondo me il liverpool allo stato attuale ha molte probabilità di essere eliminato dall'atletico perché sì voi vi direte come ha rimontato il barcellona lo scorso l'anno per 4 a 0 ma l'eliminazione del barcellona nello scorso anno ricorda molto quello a suo tempo del milan col del portivo la corugna cioè se la giochi altri 20 volte passa sempre il barcellona quella partita lì chiaro poi nessuno toglie i meriti al liverpool dell'anno scorso è per carità ma un conto giustamente molti in molti mi direte come questo in premier league ha vinto tutte le partite è un solo pareggio benissimo anche l'inter post calciopoli di mancini fece quasi 100 punti con 20 punti di vantaggio sulla roma e non penso se noi paragoniamo le due rose non penso che quell'inter era inferiore a questo liverpool cioè ragazzi quell'inter in attacco aveva ibraimovic adriano crespo cruz poi c'era figo stankovic materazzi che era ancora in forma samuel maicon giulio cesare in porta secondo voi inferiore a questo liverpool era inferiore a questo liverpool quella squadra lì per me assolutamente no salati mi romane è vero sono meglio di sono meglio assortiti come attacco ma quelli quelli attaccanti lì facevano paura non so non so cosa ne pensiate voi ecco il liverpool sta stradominando questa premier league ma proprio per questo motivo per me rischia rischia di andare fuori rischia di andare fuori perché non è più abituato a non è abituato a a conquistarselo come l'anno scorso la qualificazione vi spiego anche perché già nei gironi già nei gironi se non fosse per la crisi del napoli e il liverpool per i casini del napoli con salisburgo con il gen che roba varia il liverpool mica lo vince il girone ricordatevi che fra andate e ritorno il liverpool con il napoli ha fatto un solo punto e se l'anno scorso milic mette mette la palla a due minuti della fine mette dentro quel pallone non si mangia quel gol il liverpool va in europa league altro che champions ve l'ho fatto un'altra volta questo ragionamento attenzione nessuno sta togliendo meriti al liverpool ma non è quello squadrone irresistibile che vi vogliono far credere per dirvi non è il barcellona di guardiola non è il milan di sacchi non è la jax di cruif attenzione è una grande squadra ma non a quei livelli non a quei livelli l'ultima grande squadra che ha trovato l'ultimo real di cristiano e le ha prese in finale vero c'è nel portiere carius ma si era infortunato salà ma per me la madrid quella partita l'avrebbe vinta comunque ok ora dicevamo della rimonta dell'anno scorso contro il barcellona ecco l'atletico madrid mai al mondo prende due gol di distacco dal liverpool se il liverpool passa passa ai calci di rigore guardate cosa vi sto dicendo se il liverpool passa passa ai calci di rigore passa vincendo 1 a 0 e battendoli ai calci di rigore altrimenti io vedo l'atletico favorito vedo l'atletico favorito raga Simeone più di due gol di distacco li prende solo dalla squadra di Messi da chi è in squadra Messi o Cristiano Ronaldo scrivetelo qui anzi il balsa di Messi è andato due volte a casa contro l'atletico ricordatevelo questo particolare attenzione attenzione se il liverpool passa lo fa vincendo 1 a 0 è passando ai calci di rigore altrimenti è l'atletico a passare tra l'altro al ritorno avrà recuperato alcune pedine l'atletico madrid attenzione che l'atletico madrid è la squadra fatta apposta per resistere nella boggia di anfield non è il barcellona che entra in campo abbiamo vinto 3 a 0 entra in campo svagato e piglia 4 pere non è il barcellona attenzione così come è vero che l'atletico madrid mai dà tre gol in casa a liverpool come gli eredi del barcellona di Messi sono squadre diverse il barca è nettamente più forte ma sono squadre diverse l'atletico ha un allenatore ha un modo di giocare che non prende imbarcate l'imbarcata che prese il barcellona l'anno scorso ecco perché con due settimane di anticipo vi annuncio che se il liverpool passa lo fa i calci di rigore altrimenti il liverpool va a casa secondo me e poi vi darete ragione molto più aperta l'altra partita poi c'è la vigilia domani si giocano se non sbaglio l'Atalanta e non so sinceramente non ricordo chi mi sa che gioca mi sa che gioca l'Ipsia Tottenham l'Ipsia mi sa che giocano comunque secondo me Atalanta e Tottenham sono già i quarti di finale e starete a vedere perché il Tottenham vince ragevolmente contro l'Ipsia e l'Atalanta l'Atalanta vince in casa e fuori casa 2 a 1 con il Valencia l'Atalanta va ai quarti di finale secondo me per quanto riguarda il partito di stasera vi ripeto Paris Saint-Germain Borussia Dortmund secondo me passa il Paris Saint-Germain perché vincerà il Paris Saint-Germain 3 a 1 in casa secondo me mi sbilancio Liverpool atletico se Liverpool passa passa i riguri altrimenti è l'Atletico a passare ragazzi iscrivetevi al canale e ci vediamo per i prossimi video ciao ciao